Io, che ancora non ho risolto gran parte di problemi della mia adolescenza, infatti mi porto dietro un sacco di questioni aperte, però ho trovato degli strumenti nel corso della vita. E quegli strumenti per me sono stati i libri. Ora, quelli sono stati la mia strada per evitare che la solitudine mi schiacciasse. Perché dico questo? Perché in fin dei conti i libri mi hanno fatto sentire veramente meno solo in quello che gli autori mi raccontavano dei loro problemi. Tranquilli, eh? Io non ho risolto nulla. Ancora oggi la paura c'è, la solitudine c'è, l'angoscia c'è di non sapere dove si sta andando, di non capire come fare ordine ai tanti problemi della vita. I libri ancora oggi per me sono questo. Sono strumenti per affrontare queste questioni, perché l'enigma della vita, di nuovo, non lo risolve, non lo si risolve mai del tutto. Sollte Grazie a tutti.